Siamo con Tonina Pantani, mamma dell'indimenticabile Marco. Signora Tonina, cosa si prova a essere la mamma di Marco Pantani, un campione italiano, un campione internazionale che è rimasto nel cuore dei tifosi dopo tanti anni. Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della nascita e Marco non è più con noi, però è sempre con noi. Cosa si prova? Si prova innanzitutto una gran tristezza perché poteva essere qua con noi, che purtroppo non è andata così. Però c'è tanta soddisfazione almeno perché la gente lo ricorda ancora e anche ieri sera che c'è stata la sua messa, la chiesa era piena di gente venuta da fuori, da tutte le parti. Questo mi dà una gran carica perché vado avanti con le mie ricerche per capire cosa è successo. I ricordi di Marco sono tutti bei ricordi per me e penso che abbia lasciato anche dei bei ricordi lui qua. Grazie a tutti.